Uno dei volti nuovi del Pescara, Andrea Di Grazia, a Palena, con la formazione bianca-azzurro. Per te è una grossa occasione giocare in Serie B quest'anno? Sì, assolutamente. Poi una squadra come Pescara, che in Serie B ha fatto sempre bene, ha portato tanti giovani che sono passati da qui e poi sono andati in Serie A e ora stanno, diciamo, giocando nelle migliori squadre d'Italia e anche all'estero. Quindi sono veramente onorato di far parte di questa squadra, di questa società. Ce la metterò tutta per dare un contributo. Primi giorni di ritiro, quali impressioni sullo spogliatoio, nuovi compagni, il tecnico Luciano Zauri? I compagni sono veramente, per le prime impressioni, veramente positive perché da poco che ci conosciamo, comunque tanta gente che mi aiuta, che aiuta a tutti, ci aiutiamo a vicenda. Il mister, secondo me, è molto preparato, anche se da poco che comunque siamo insieme, secondo me può fare bene. Nei giorni scorsi si era parlato anche della possibilità di un tuo passaggio, di una tua cessione da parte della formazione bianca-azzurra, cosa sai? Se ovviamente pensi e ti auguri di poter restare invece a Pescara e giocare col Pescara in Serie B. Guarda, sinceramente non ci penso. Vorrei concentrarmi più sul ritiro e far bene qui, intanto qui a Pescara, poi al futuro si vedrà. Quali sono le caratteristiche tecniche di Andrea Di Grazia? Vogliamo un attimo farti conoscere anche i tifosi del Pescara. Mi piace fare uno contro uno, mi piace giocare la palla, stare largo, sono un ragazzo molto veloce. Poi, ripeto, sono un ragazzo anche umile, diciamo che la mia qualità, l'uno contro uno, è la velocità.